Beh che dire, internet non è questo, non è una casa, non è natura, non è un gioco per bambini però sicuramente ha cambiato la vita di molti di noi, in alcuni meglio in altri in peggio tranne la controindicazione dei mal di testa dovute a posture da sedie di computer per il resto credo che sia un elemento molto valido per fare shopping perché si risparmia molto un elemento valido per vendere il proprio usato, un elemento molto valido per comunicare un elemento utilissimo per trovare lavoro, anche se ancora non è compreso a pieno c'è chi dubita della truffa e così via, però internet sicuramente è uno strumento molto efficiente e molto utile alla società che poi aiuta purtroppo sotto alcuni punti di vista a far crollare l'industria del cinema e della musica non è colpa del web ma dei pirati è colpa di coloro che utilizzano in modo improprio internet come il nome o il marchio di alcune persone ma anche nella vita reale ci sono stati sempre di questi problemi quindi io credo che internet su una scala da 1 a 100 sia utile 70 che non è poco quindi sicuramente ha cambiato la vita mia come credo di tante altre persone diciamo migliorandola anche se a volte non è così però io lo reputo un mezzo molto utile che ha cambiato la mia vita come quella di tante altre persone anche se ovviamente offre delle opportunità che sono valide ma altre che sono poco valide e più efficienti ma ripeto la colpa non è del web ma di chi utilizza impropriamente internet in genere comunque la mia vita l'ha cambiata diciamo l'ha lasciata invariata anche se mi ha lasciato utilizzare delle situazioni positive e altre negative che sono stati in casa